buonasera buonasera io non sono il direttore ovviamente si vede e stefano buonasera grazie e dal fainito proprio oggi queste riprese del esil d'amore che è uno spettacolo del teatro reggio che viene ripreso abbastanza spesso la cosa ci fa molto piacere quindi come riprendiamo questo spettacolo avremmo piacere io personalmente che voi riprendeste il nostro posto in teatro abbiamo fatto quest'opera lavorato pensando a voi a voi pubblico e ci mancate tantissimo il teatro senza il calore pubblico senza le reazioni pubbliche quasi inesistente quindi vi invito a godervelo da casa a stare sereni perché questo periodo finirà sicuramente e ci riabbraceremo il teatro quando sarà cosa devo dire di più è quasi commosso condivido a pieno e quindi vi aspettiamo vi aspettiamo perché è ora di di come diceva lui sì di dare un calcio anche se non è completamente così però insomma piano piano voi riprenderete il vostro posto in platea noi ci riprenderemo il vostro non so come spiegarlo respiro che si sente in teatro e che ci come diceva fabio manca tantissimo e effettivamente è un po complicato quindi l'invito è a godervi lo spettacolo perché è molto bello e frizzante effervescente colorato è divertente è il esil d'amore ma il messaggio un po' di più che vedere uno spettacolo e ricominciare a avvicinarsi piano piano e la prossima volta anziché essere lì voi sarete qui buono spettacolo